Quattro edizioni, sicuramente un bilancio molto positivo. In pochi anni la manifestazione infatti è cresciuta tanto da poter superare la partecipazione dei tempi di massimo splendore del Carnevale Romano Storico. Le cronache dell'epoca ci danno una valutazione di 50.000 persone tra Piazza del Popolo e Via del Corso, sebbene oggi i cittadini romani siano notevolmente cresciuti di numero rispetto alla Roma Papalina, è pur vero che è cresciuta l'offerta di intrattenimento e sono cambiate le condizioni storiche. Quindi le stime di quest'anno che valutano un'affluenza di più di 70.000 persone sono da considerarsi un gran successo. Inoltre questa edizione è stata occasione per far scoprire ai romani non soltanto Tiburtello, la nuova maschera, ma anche le altre antiche maschere capitoline.